Perfetto, non ti preoccupare, sei già stata bravissima così. Un ospite molto interessante, ti do anche questo Mattia, perdonami, che è la dottoressa Fagioli Cinzia, responsabile commerciale di IPAC S.P.A. Cinzia, buongiorno a voi. Allora, vediamo già qua qualcosa di interessantissimo, e alzo questo che avevo tenuto nascosto fino a poc'anzi, perché qui vediamo, ma che cos'è questa cosa meravigliosa che adesso estraggo dalla... Questa è una linea nuovissima, presentiamo adesso in esclusiva, nasce dalla ricerca della passione che ha il nostro titolare per il design e per trovare una funzionalità diversa al barattolo standard. Questo è un barattolo che comunque è uno standard internazionale, in Italia abbiamo Bormioli, ma all'estero c'è altre marche. Allora, queste sono una linea di tappi totalmente in acciaio inox, che coprono tutte le funzioni che vanno dalla cucina all'oggettistica, per il tè, misurini, tutto quello che si può fare con un barattolo che non sia la conservazione normale. Questa è una forchettina telescopica, quindi sottoli, sottaceti, tutto quello che dobbiamo... Allora, ho tutto lo staff dietro che fa? Grazie, grazie, grazie. No, è veramente speciale, perché tu hai detto che questo è un tappo universale, infatti voglio far vedere il packaging, si chiama Happy Tappi, quindi tappo felice perché effettivamente va a chiudere non solo ogni barattolino, ma la necessità che la persona ha nel quotidiano. Non vogliamo vederne altri? Allora, abbiamo sicuramente, molto importante, il misurino, quindi qui ci sono tutte le capacità, possiamo conservare farina, cacao, riso... Posso aprirlo? Certo! E poi si va a misurare, così abbiamo la funzione, invece di avere due oggetti, abbiamo un oggetto unico, un oggetto che ci tengo a dire tutto in acciaio inox, quindi lavastoviglie garantito a vita, non ci sono i problemi. Perfetto, capito? Senti, Matte, ti serve qualcosa? Qui ho 50 ml... Di? No, no, di niente, di prodotto di esposizione, esatto. Esatto. Che belli, veramente. È bellissima questa cosa. Abbiamo la grattugia. La grattugia? Voi da dove arrivate? Noi siamo di Pistoia. Ah, la meravigliosa toscana. Grazie. Grattugia che chiaramente anche lì, invece di avere due oggetti, abbiamo un oggetto unico, che riesce a essere funzionale, utile e anche un bell'oggetto, se mi lasciate dire. Abbiamo anche il temperamatite. Attenzione, il temperamatite non tappano, questo è meraviglioso. Geniale, anche perché il vero problema del temperamatite è dove far andare gli scappi. Esatto, esatto, esatto. Poi chiaramente abbiamo anche la clessidra per l'infusione dei tè, tre minuti in questo caso, e anche qui possiamo tenere le bustine e avere l'oggetto utile per quello che ci dobbiamo fare. Scusi, eh. Mattia, questo piace a Betta, eh. Sì, dici. Quindi come regalino, sì. Quando la fai tanto arrabbiare... La clessidra, come dire. ...a gift for Betta, un regalo per Betta. Tra poco esploderò. Ecco. Qua ti dice, Mattia non te reggo più. Esatto. Mi scherza, è logicamente. Quindi la clessidra... Dai, che mi vuole bene. ...per quando mettiamo la tisana o il tè, insomma. Il fusi, esatto. Abbiamo lo stappino per stappare il bottiglio e rimangono i tappini. Questo raccoglie i tappi. Esatto. E rimangono i tappini. Esatto, esatto. Ma voi considerate, abbiamo 70 referenze differenti. 70. Esatto. Stanno arrivando anche il tappo per fare la maionese. No. In tre minuti riusciamo a fare la maionese. Questa roba mi interessa. Per montare la panna e per fare il pesto. Saranno? Sì, esatto. Io da buon genovese allora non userò più il mortaio, quindi. Mi sembra giusto. No, penso che non lo abbandonerai mai perché le tradizioni anche se è giovane, Mattia. E io invece voglio questo, che il baratto lo porta tutto, me lo porto anche... Qua c'è la schiscetta, che tanto mi piace perché non mi andano a mangiare. La schiscetta. La schiscetta. Non so che saputo questo, no? Certo, certo, certo. Senti, ma Ipaca, oltre a questi epitappi, che cosa propone, insomma? Voi sicuramente, io lo so. Siamo un'azienda da quattro generazioni produttori di acciaio inox. Quindi siamo stati i primi in Italia a produrre il pasta verdura. Abbiamo una linea, chiaramente copriamo tutto quello che è il settore casalingo, dal pentolame agli accessori. La nostra linea poi più conosciuta in questo momento, questa la lanciamo e quindi sarà conosciutissima a breve. La linea dei genietti, dove c'è anche, ci sono dei prodotti innovativi, ma sono 170 prodotti differenti per la cucina, per la preparazione. E noi abbiamo, la nostra caratteristica è l'innovazione. Design, innovazione e qualità. Questa è la nostra caratteristica. Quindi siete perfettamente calati in quello che Omi propone. Assolutamente, infatti il pack espone a Omi fin dalla prima edizione. Questo è molto bello, perché vuol dire che, insomma, questa è la settima edizione di Omi e voi vi riproponete, credete, non solo nella forza di una fiera così, ma in un prodotto che dopo quattro generazioni l'azienda tende a rinnovare e si pone come obiettivo. Esatto, l'innovazione è il nostro must. Allora, questo se mi permette lo lascio al mio chef. Ma certo. Che c'è scritto ciao bello. E invece io vorrei, con questo in mano e con quella che è la proposta poi del merchandising, veramente salutare Cinzia Fazzoli di IPAC S.P.A. per averci raccontato questa meravigliosa storia che può colorarsi attraverso dei tappi che vanno veramente, sono stati creati per ogni occasione. Per qualsiasi occasione. Happy Tappi, grazie Cinzia, grazie a voi. Grazie a lei, grazie a lei. Bocca all'ultimo, complimenti. Sai che è veramente bellissima questa cosa? Veramente è una bella idea. Sai cosa stavo pensando? Dimmi. Adesso dimmi.